Ma ragazza, Seidonna, il free press mensile che dirigi, ha fatto un esperimento, un esperimento sociale, ha finto un litigio, piuttosto un'aggressione di un fidanzato ad una fidanzata. In pieno centro, affoggia, orario di mattina, come è andata? Si tratta di un esperimento sociale che abbiamo lanciato in anteprima durante la serata del nostro premio Seidonna, che quest'anno è giunto alla terza edizione. Il nostro obiettivo era proprio quello di fare un piccolo esperimento sociale, anche per verificare il lavoro che è stato svolto dal nostro mensile, un free press di genere, che dedica particolare attenzione a questo tipo di tematiche, ovvero la lotta alla violenza sulle donne. L'idea era proprio quella di mettere in scena un momento di violenza che fosse sia verbale, che fisica, che psicologica, nei confronti di un uomo e di una donna. Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Questura di Foggia, che ha autorizzato il progetto, e alla sensibilità dimostrata da due attori del Teatro della Polvere di Foggia, Carlo Baldassini e Mariangela Conte, che si sono esposti, anche al loro rischio e pericolo, a fare questa piccola candid camera con telecamere nascoste. Purtroppo quello che è venuto fuori è una sorta di asfuefazione alla violenza. Abbiamo notato una sorta di disinteresse, soprattutto da parte dei più giovani. La cosa che fa più male è constatare che non c'è stato nemmeno l'interesse o l'attenzione, la sensibilità a chiamare un numero del pronto intervento, che fosse il 112 o il 113. Nessuno è intervenuto all'impiazza, però quando avete pubblicato il video su Facebook, sui social, ci sono stati molti commenti. Sì, positivi e negativi in realtà. Nel senso che poi l'esperimento forse non è stato accolto appieno da tutti quanti. Ovviamente il nostro obiettivo non è assolutamente quello di mettere un'etichetta sulla città, un'etichetta negativa. Tra l'altro Foggia ha già tanti problemi e noi non vogliamo aggiungerne altri. Ne cercavamo eroi perché non volevamo assolutamente mettere persone in difficoltà o comunque in pericolo. Il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le persone, di non voltare la testa dall'altra parte e magari allontanarsi un attimo e chiamare il numero di pronto intervento. Sarebbe stato sicuramente di grande aiuto.